Salve a tutti amici, ben ritrovati sulla finanza sul web. Come sapete ieri in diverse zone d'Italia, ma in particolare in Trentino Alto Adige, ci sono state le elezioni e i risultati delle urne sono stati una sorpresa, una sorpresa amarissima per il sistema, perché il voto ha visto il crollo dei partiti tradizionali, sia quelli tedeschi che quelli italiani, cioè la Sud Tirol Volkspartei da un lato, dall'altro la Lega, Forza Italia, il PD, eccetera, e l'affermazione avvalanga di liste, diciamo così, antisistema, in particolare una lista secessionista e le liste Novax, che ottengono un risultato sbalorditivo. Il sistema elettorale in Trentino Alto Adige è molto differente da quello italiano e anche il sistema politico è molto diverso. È una regione a statuto speciale formata da due province, quella di Trento e quella di Bolzano. Nella provincia di Trento la maggioranza dei cittadini è di lingua italiana e c'è una minoranza di lingua tedesca, mentre a Bolzano c'è una maggioranza di lingua tedesca e una minoranza di lingua italiana. Tradizionalmente il partito di gran lunga più forte è la Sud Tirol Volkspartei, così forte, cioè il partito autonomista, non secessionista ma autonomista, moderato, che inizialmente nei decenni scorsi riusciva molto spesso anche a governare da solo. In anni più recenti si è dovuto alleare con altri partiti. Normalmente si alleava con il PD, nelle ultime elezioni si è alleato con la Lega. Ma il crollo dei voti, tanto della Sud Tirol Volkspartei quanto della Lega di Forza Italia, del PD, rende molto improbabile, numericamente impossibile, riproporre lo stesso schema di governo, cioè Sud Tirol insieme alla Lega, e non sarebbero sufficienti neppure i voti di Forza Italia. Quindi diciamo che c'è, da un punto di vista della maggioranza, una sorta di impasse, ma è il dato politico quello che è più significativo, perché i partiti antisistema, a vario titolo e con varie differenze, ottengono un risultato altissimo. Appunto, dicevamo, innanzitutto il partito secessionista che chiede la separazione del Sud Tirolo dall'Italia e l'annessione all'Austria ottiene un risultato storico. E a fare un boom incredibile di consensi sono anche le liste cosiddette Novax. Vediamo quindi quali sono stati i risultati delle elezioni. A Bolzano, Sud Tirol 4th Partei ottiene il risultato più basso della sua storia, con il 34,52% dei voti. Al secondo posto arriva Team K. Team K è un partito post-grillino formato da un fuoriuscito del Movimento 5 Stelle che propone un programma fatto di sanità pubblica, trasparenza, lotta alla corruzione, lotta ai partiti tradizionali. Al terzo posto la sorpresa forse in assoluto più sconvolgente, cioè STF, il partito secessionista, che arriva a uno sbalorditivo 10,87%, quasi l'11% dei voti in Alto Adige nella provincia di Bolzano sono stati per la secessione dall'Italia. Poi al quarto posto i Verdi, al quinto posto Fratelli d'Italia, che è il primo partito italiano, ma prende solamente il 5,95%. Il primo partito italiano è appunto Fratelli d'Italia con il 5,95%, ma a pochissimi voti di distanza, parliamo letteralmente di poche decine di voti di distanza, arriva JWA di Underland e qui vale la pena spendere qualche parola. Innanzitutto perché è un risultato incredibile per una lista che è stata fondata da un personaggio considerato assolutamente controverso. Perché? Perché Underland è un ex comandante della guardia che fondamentalmente è a tutela del territorio, una sorta di polizia locale. E si è dimesso durante il periodo del post-pandemico dopo aver attaccato in maniera durissima il Green Pass, passeggiava in polemica con le restrizioni, il che per un capo, diciamo così, militare era molto scandaloso. E è su posizioni totalmente antisistema. Non solamente sui vaccini, che è quello su cui è stato attaccato di più, ma anche su tutta una serie di altri elementi. Dal clima, il suo partito sostiene che si deve fare una lotta, si debba fare una lotta senza quartiere all'inquinamento, ma che non si debba assolutamente cedere all'isteria del cambiamento climatico e all'agenda, diciamo così, di Davos su questo tema. Distingue tra l'inquinamento e il presunto riscaldamento climatico. L'inquinamento, la plastica nei boschi, le falde acquifere che vengono contaminate, eccetera, viene considerato un problema molto grave da risolvere. Mentre il presunto riscaldamento climatico viene considerata un'isteria. Poi, questa stessa forza politica è contraria al gender, al punto che un rap di questo personaggio, anche piuttosto folcloristico, anche come aspetto, aveva scatenato polemiche perché appunto era visto come sessista e anti-gender. Quindi un personaggio che incarna proprio tutte le lotte che il sistema teme, cioè quella contro l'obbligo vaccinale, contro il green pass e le limitazioni della libertà personale, per la sanità pubblica, contro la privatizzazione della sanità, contro l'isteria climatica e al tempo stesso contro l'inquinamento. peggio di così non si può dal punto di vista del sistema e il risultato ottenuto è letteralmente straordinario. Il PD, per dare un'idea, con il 3,45% è quasi alla metà dei voti presi da Underland. Poi c'è la Lega di Salvini tra i partiti italiani con il 3% e risultato molto alto, molto al di sopra delle aspettative, anche per Vita, che prende appunto il 2,56%, poco sotto la Lega di Salvini che nelle scorse elezioni aveva preso il 14% e, per dare un'idea, la Lega di Salvini prende più di 4 volte i voti del Movimento 5 Stelle e 5 volte i voti di Forza Italia. Questi due partiti infatti sono sotto lo 0%, 0,74% per il 5 Stelle e 0,57% per Forza Italia. Quali saranno quindi i seggi, come saranno ripartiti i seggi in questo caso? Su Tirol 4 Partai prende 12 seggi, Team K prende 4 seggi, STF prende 4 seggi, cioè i secessionisti prendono 4 seggi, 3 seggi i Verdi e Fratelli d'Italia, 2 seggi JVA, appunto il partito di Underland, 2 seggi DF, un seggio il PD, un seggio il Südtirol mit Wittmann, un seggio la Lega e un seggio Vita. In pratica il partito Novax tedesco prende il doppio dei seggi della Lega e del PD. Il partito Novax italiano prende la stessa quantità, cioè Vita, prende la stessa quantità di voti e di seggi del Partito Democratico e della Lega. Un risultato quindi assolutamente incredibile dal punto di vista numerico che non solo pone una serie di problemi di governabilità per il Trentino. C'è un impasse, ma non è questo il punto, perché poi in qualche modo troveranno i seggi per formare un accrocco di governo. Il punto è che il risultato delle forze antisistema nelle varie declinazioni che queste hanno avuto, insieme all'alto tasso di astensione, mostra come anche in una regione così ricca, così tutto sommato ben governata e così privilegiata come il Trentino Alto Adige, che ha un reddito e un tenore di vita imparagonabile con il resto del Paese, l'antisistema è molto forte, ma soprattutto la questione dei vaccini e delle limitazioni delle libertà personali, che probabilmente all'interno del mainstream si pensava essere stata ormai messa in soffitta, diventa invece sempre forte. Sia perché moltissimi italiani hanno capito che la minaccia del Green Pass e delle varie vaccinazioni, anche magari non legate direttamente alla vecchia pandemia, ma a nuove che si possono inventare, è ancora dietro l'angolo, sia perché i dati sulla quantità di morti, di malattie, di malori improvvisi è ormai talmente eclatante che in tantissimi stanno comprendendo che quello che è successo è qualcosa di una gravità assoluta e quando vanno a votare ne tengono atto, ne prendono atto e quindi il partito di un personaggio un po' pittoresco, molto simpatico, ma che anni fa non avrebbe neanche potuto immaginare di ottenere un risultato di questo livello, arriva a pareggiare sostanzialmente i voti con il partito della Meloni e a far mangiare la polvere a Salvini, a Forza Italia e al PD, se poi ci aggiungiamo anche il risultato di vita, parliamo di numeri che davvero stanno portando all'interno del sistema a uno sguardo molto preoccupato su quello che potranno essere i risultati delle competizioni elettorali a venire. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.